Bella ragazzi prima del video mi raccomando fate un salto nel primo link in descrizione Instant Gaming ragazzi dove troverete un sacco di videogiochi a prezzi scontatissimi anche i bundle di Fortnite mi raccomando primo link in descrizione Can you hear the scream in the air? Wey bella a tutti ragazzi e benvenuti ad un mio nuovo video io sono Xyuder e oggi ragazzi non possiamo che parlare di quello che succederà questa sera ovviamente guardandolo da una prospettiva un po' più approfondita quindi non mancheranno immagini interessantissime e leaks che vi porteranno ragazzi e vi faranno sbrulicare di prepotenza per quello che accadrà nel video di oggi infatti parleremo appunto dell'evento che avrà luogo alle 20 di questa sera vedremo anche ragazzi delle nuove skin se avremo tempo di vederle che sono state recuperate nei file di gioco e ovviamente non mancherà la carrellata violenta di leaks che come sempre vi accompagnano in tutti i miei video vi ricordo però prima di lasciare un bel pollicione in su se ancora non lo avete fatto iscrivetevi in tantissimi al canale e mi raccomando attivate la campanella per non perdere nessuna notifica sui miei video e sulle mie dirette streaming ma prima ragazzi la domanda la domanda ve la faccio sempre mi rispondete sempre in tantissimi e vi ringrazio i vostri commenti qui sotto e la domanda di oggi ragazzi è un po' particolare vuoi che ritorni il cubo sì o no oppure se sì perché se no perché ragazzi sappiamo che il cubo ha una certa importanza con l'evento di questa sera sarà un qualcosa di davvero incredibile fatemi sapere ragazzi la vostra opinione qua sotto nei commenti ma quindi ciancio alle bande e bando alle ciance andiamo subito subito a vedere ragazzi quello che sta accadendo su fortnite io metto il windows capture lui non mi captura il windows non sappiamo bene per quale motivo ma ragazzi quello di cui vi sto parlando è appunto la nuova sfera che da qualche ora è molto più chiara nel senso possiamo vedere benissimo al suo interno il re dei ghiacci ragazzi ne abbiamo già parlato abbondantemente negli ultimi due giorni lo avevamo visto in diverse situazioni ma oggi ragazzi da qualche ora lo possiamo vedere davvero in maniera molto molto più nitida e come vedete ragazzi è lì che smanaccia di prepotenza qualche cosa e sappiamo anche purtroppo che cos'è quella cosa che sta smanacciando si ragazzi è proprio un piccolissimo cubo se lo guardate bene e lo potete fare anche dalla modalità replay potrete zoomare talmente tanto in modo addirittura che vi rendiate conto che quello che ha tra le mani è un piccolo cubo ed è ragazzi il cubo come vi anticipavo ieri che probabilmente gli ha portato haim vi voglio ragazzi far notare il logo è di haim ragazzi che cosa vi sembra ne avevamo già parlato settimane e settimane fa ragazzi ed è proprio così come vedete quello che circonda la sfera di haim non è nient'altro che un cubo spezzato ragazzi davvero incredibile abbiamo finalmente capito la connessione della skin segreta della scorsa season con la season in cui stiamo giocando proprio in queste settimane ragazzi quindi ce ne saranno sicuramente da vedere ancora delle belle molto probabilmente la storyline si protrarrà fino alla prossima stagione e quindi sappiamo che haim è stato costruito per il male ragazzi andando avanti nei file di gioco è stata recuperata questa immagine che è davvero interessantissima questa ragazzi non è altro che l'immagine è come se stessimo aprendo noi la mappa durante il gioco che probabilmente potremmo vedere da domani quindi sembra comunque confermata la mappa totalmente coperta dalla neve e se ne diamo un'occhiata ragazzi a questa immagine questi servono proprio gli occhi attenti ci sono delle cose interessantissime prima però ragazzi di farvi vedere è quello che c'è nell'immagine vorrei farvi sentire ragazzi questi suoni ve li faccio sentire proprio intanto ci tossisco un po' sopra così non si accorgono sentite che cavolo di suoni ci sono sentito un po' ma che sono ignorante fort questi ragazzi sono due suoni che verranno che verranno mandati appunto probabilmente con l'evento di questa sera ragazzi e si riferiscono hanno dei nomi questi suoni e si chiamano wall e poi wall down una roba del genere comunque un muro che si alza ragazzi quindi non sappiamo adesso di che muro si stia parlando però viene ancora da ridere a pensare non sappiamo ragazzi di che muro si sta parlando ma ce ne sarà uno ovviamente tenete anche le ore che bene addrizzate quando ci sarà l'evento in modo che magari lo potrete riconoscere stavamo parlando delle modifiche invece di e la mappa ragazzi ce n'è una interessantissima che riguarda proprio l'edificio centrale di pinnacoli pendenti quello che vi ho appena cerchiato ragazzi come vedete nella mappa l'edificio sembra completato quindi potrebbe essere che l'edificio quello che è sempre distrutto a profusione in tutte le season potrebbe rimanere per qualche giorno in fase completa e tra l'altro ho un'immagine interessantissima da farvi vedere che riguarda proprio una texture trovata da pochissimi per me sono pochissimi minuti per voi saranno pochissime ore in quanto l'ho registrato ieri sera il video questa ragazzi è un'immagine una texture trovata nei file di gioco che va a rispecchiare l'edificio di pinnacoli completo come vedete ragazzi anche l'interno è stato terminato non sappiamo se sarà disponibile già da questa e da questo evento che arriverà tra qualche ora o dalla patch di settimana prossima però ci tenevo a farvelo vedere in modo da farvi un'idea un pochettino su come sarà l'edificio andiamo avanti ragazzi e parliamo di un'altra cosa interessantissima che è il secret skirmish quello di cui vi ho scritto nel titolo un nuovissimo importantissimo torneo sponsorizzato ovviamente da epic games che vedrà davvero un monte premi incredibile mezzo milione di dollari ragazzi abbiamo un annuncio ufficiale da parte di epic games che dice un po come funzionerà il nuovo secret skirmish che dovrebbe buon nuovo anno noi ci stiamo stiamo entrando nel 2019 con un nuovo torneo speciale su invito che si chiamerà secret skirmish non ditelo a nessuno ma ci sarà mezzo milione di monte premi in cash per questo evento che durerà due giorni prenderanno i top player di ogni evento quelli giornalieri quindi chi si è classificato meglio verrà invitato e l'evento sarà giocato dal 14 al 15 febbraio ragazzi ogni match verrà trasmesso ovviamente sui loro social sia di twitch che di youtube che dove cavolo gli pare a loro e ovviamente ragazzi il torneo prevederà che ci saranno sicuramente i più grandi giocatori del mondo anche probabilmente persone sconosciute sulle piattaforme di streaming più famose ma che comunque sono dei pro player in fortnite quindi ragazzi un grandissimo evento al quale sarebbe veramente figo parteciparci e al quale cercheremo di tenervi aggiornati con tutte le notizie siamo quasi in chiusura ma vi parlo prima di chiudere ragazzi della notizia che riguarda il bundle deep freeze se lo volete acquistare e vi ricordo lo trovate su instant gaming primo link in descrizione a un prezzo ridicolo 19 euro fatelo perché il giorno 21 gennaio non sarà più possibile acquistare il bundle deep freeze quindi ragazzi per 19 euro troverete skin backpack piccone e deltaplano più mille vbucks fossi in voi ragazzi un pensiero ce lo farei beh ragazzi direi che anche per oggi tutte le news io ve le ho dette vi ringrazio tantissimo per avere guardato questo video un bel pollicione in su noi ci ci vediamo presto ciao